Che seno hai? Senza tette, capexolina... Perché hai questo seno? Non è mai stato semplice. Mi sono vergogna da tanto, momenti difficili. Mi chiamo Bianca e soffro di pixelite. Ho la pixelite. Pixelite. Ho il seno pixelato. Una strana forma di pigmentazione della pelle. Non riesco a vedermi il seno. Poi ho scoperto vuoto. Tanti capezzoni insieme non li avevo mai visti. È una foto in cui si vede il seno di tutte le ragazze e l'ho invidiata. Cioè, solo donne senza pixelite e tutto grazie a questo fotografo. Ho cancellato l'appuntamento con il dermatologo e l'ho presa col fotografo. Pippo. La mia amica che ha fatto la foto con lui è risolto. Ora il suo seno è limpido, non ha nemmeno un pixel. Io lo farò quest'anno e vedo l'ora. Io lo farò quest'anno e vedo l'ora. La mia amica che ha fatto la foto con lui è risolto. La mia amica che ha fatto la foto con lui è risolto. La mia amica che ha fatto la foto con lui è risolto.